Bentornati ancora e continuiamo sempre il nostro argomento per quanto riguarda la ricerca e il flettaggio della nostra maschera e questa volta andiamo a vedere come ricercare i dati su più campi con tre caselle combinati. Partiamo da un esempio molto semplice in questo caso guardate abbiamo cerca abbonamenti cerca stato cerca città quindi abbonamenti stato e città proviamo con prima abbonamenti quindi vediamo prima quello annuale e qui infatti la ricerca viene su questo campo e vengono trovati tutti i nominativi che hanno abbonamento annuale. Se andiamo alla ricerca del nostro stato facciamo ad esempio Giorgia ecco che ne troviamo due qui nel campo Giorgia naturalmente però perdiamo quello che abbiamo cercato prima nel tipo di abbonamento cioè questo è molto semplice perché appunto vedete andiamo a cercare adesso per esempio nella città Chicago e qui troviamo un solo nominativo della città di Chicago e il nostro pulsante in questo caso rimette tutto a posto. andiamo a vedere partiamo appunto da questa molto semplice andiamo sempre in struttura e questa volta vedete ho inserito una sottomaschera quindi non abbiamo la solita maschera perché ho inserito una sottomaschera così vediamo anche questo tipo di caso appunto con la sottomaschera quindi andiamo a vedere qui abbiamo circa abbonamenti quindi andiamo qui nella proprietà e dopo aggiornamento ecco qui il nostro codice abbiamo la variabile mio abbonamento che è una stringa mio abbonamento uguale seleziona da dove dalla tabella nominativi con la condizione dell'id dell'abbonamento id quello che abbiamo inserito nella nostra casella cioè la nostra ricerca poi qui ecco vedete la sottomaschera quindi andiamo a ricercare nella sottomaschera form e poi ricorda il nostro dato qui record source e poi mio uguale sarà uguale al mio abbonamento cioè la nostra variabile poi aggiorniamo e andiamo a eliminare le due caselle le altre due caselle dai dati la stessa cosa con le altre due quindi avremo per la ricerca dello stato la stessa cosa vedete identica però naturalmente nel campo dello stato e la stessa cosa anche per quanto riguarda la città cioè andiamo a ricercare i nostri dati nella città e qui praticamente sono uguali i codici tranne naturalmente che il nome dei campi e la pubblicità qui nelle nostre caselle dove inseriamo i dati ed abbonamento e stato città e stato e città e abbonamenti e fino qua è tutto chiaro credo la cosa qui in più che abbiamo nel nostro pulsante che rimette tutto toglie il filtro alla nostra sottomaschera questa volta quindi andiamo a cancellare tutti i dati dentro le caselle e poi la nostra variabile cerca sarà uguale a tutti i dati della cartella anzi scusate della tabella nominativi e poi andremo a creare questa ricerca dove nella sottomasse nella forma della sottomaschera questo che si chiama nominativi adesso qui possiamo chiudere andiamo a vedere l'ultimo quindi chiudiamo dicono di no ed ecco qua vedete questa invece è completamente differente quindi andiamo a fare la nostra prova cerca abbonamento quindi andiamo a vedere bimestrale e qui ha trovato tutti i tipi di abbonamento bimestrale cerca stato vediamo qui bimestrale eccolo qua della california solo bimestrale della california poi abbiamo per esempio la città los angeles andiamo a vedere quindi segliamo e quindi vedete ha trovato l'abbonamento bimestrale nello stato di california e solo la città di los angeles qui possiamo andare a togliere il filtro per quanto riguarda cerca città per quanto riguarda lo stato e rimaniamo solo con bimestrale e poi tutti oppure anche il pulsante tutti andiamo quindi a vedere sempre il nostro codice struttura e cominciamo qui con cerca abbonamento e dopo aggiornamento quindi clicchiamo sempre sui nostri tre puntini e qui facciamo avviare criterio ricerca cioè la nostra sub ed eccola qua assegniamo prima le variabili stringa abbonamento stringa città e stringa stato cioè le tre poi vedete sono stringa poi anche segli e str scelta altre due stringa e poi qui abbiamo se la nostra casella dove inseriamo il dato della ricerca di abbonamento che è stata chiamata cbo abbonamenti è nulla allora i dati non devono essere filtrati cioè vengono visualizzati tutti altrimenti cosa sarà che il nostro la nostra stringa str abbonamento sarà uguale all'id uguale a quello all'id che abbiamo inserito dentro alla nostra casella e quindi effettuare la nostra ricerca poi e la stessa cosa per quanto riguarda la città stessa identica vedete e per quanto riguarda lo stato quindi anche qui alla fine poi la nostra stringa sarà uguale a sempre la nostra stringa e inoltre anche alla stringa della città e la stringa dello stato e poi avvierà la nostra ricerca attraverso questo codice e poi dobbiamo naturalmente visualizzare e aggiornare la nostra sotto in questo caso sotto maschera inoltre il nostro pulsante anzi i nostri tre pulsanti che eliminano i filtri casella per casella naturalmente andiamo a cancellare quello che inserisce dentro e poi facciamo avviamo lo stesso la nostra ricerca lo stesso per pulsante che riguarda la città per lo stato e per quello che riguarda gli abbonamenti l'ultimo è quello che toglie i filtri completamente vedete anche qui cancelliamo i dati dentro le nostre tre caselle avviamo sempre la nostra ricerca e poi dopo la nostra sotto maschera viene aggiornata e quindi anche qui vedete molto semplice anche questa maschera facciamo sempre ancora la nostra prova prendiamo un mensile abbiamo tutti i mensili poi vediamo un po' si abbiamo qui molti vediamo della California anzi non so se ce ne sono tanti no ce ne sono tre in effetti se andiamo a trovare anche la città mettiamo ad esempio or premo invio ecco qua e troviamo anche la città poi ovviamente togliamo i nostri filtri uno uno e ritorniamo appunto di partenza bene passo a passo siamo arrivati a creare diciamo così queste tre caselle in combinazione multiple diciamo così per la ricerca multiple dei nostri dati per adesso vi saluto spero di poter fare un altro tutorial perché ho trovato un codice questa volta lo scaricato da internet lo devo provare valutare un po poi vi farò vedere che oltre alle caselle qui e combinate possiamo avere anche le nostre caselle di controllo abbinate insieme ma poi questo lo vedremo più avanti vi saluto ci vediamo arrivederci